Migliaia di ragazzi formati attraverso lezioni teoriche e pratiche. L'obiettivo ultimo non può che essere quello di ridurre il numero di incidenti, quindi di feriti e purtroppo di vittime. Parte proprio dai giovani che devono essere artefici della sicurezza stradale il progetto A tutto gas organizzato dalla CS Associati in collaborazione con AC Roma e AC Cosenza. Numeri importanti hanno caratterizzato questa prima fase che ha visto protagonista prima alcune squadre della provincia di Cosenza e poi quelle della provincia di Roma, ma sono cifre destinate a crescere con nuove attività previste dal progetto. Siamo diciamo al giro di boa, siamo a metà del progetto dove si è conclusa l'attività di sensibilizzazione sulla regione Calabria ed è iniziata oggi con una sensibilizzazione sulla regione Lazio che si concretizzerà in una serie di eventi che si svolgeranno, oggi è il primo evento qua a Tivoli e poi ci saranno una serie di eventi che si concretizzeranno nel mese di settembre con la riapertura delle scuole in quanto in questo periodo c'è una fase di stallo negli istituti scolastici. Per quanto concerne i primi dati abbiamo circa 400.000 contatti su Facebook di socializzazione, 5.000 contatti diretti, 30 associati diretti al progetto, circa 2.500 beneficiari diretti, quindi dei risultati più che apprezzabili, anzi per essere sinceri, più di quanto ci aspettavamo. In tutto ciò chiaramente bisogna ringraziare oltre che i due partner ufficiali, ACI Roma e ACI Cosenza, tutte le scuole e gli istituti scolastici che ci hanno permesso di poter interagire direttamente con i loro alunni e quindi di poter divulgare e sensibilizzare il progetto.